Ciao a tutti, mi chiamo Emanuele e volevo darvi il benvenuto alla fanpage del film Paul and the Hooker. Paul and the Hooker è una commedia che ruota attorno a un ragazzo chiamato Paul, il quale ha avuto tutto il suo mondo completamente ribaltato sotto sopra dopo aver passato una notte con una prostituta, che si chiama Marissa. Questa di base è una commedia romantica che ha avuto tantissimi commenti positivi per avere anche una storia divertentissima. Quindi se volete stare in continuo aggiornamento su quello che succede e sui progetti futuri che verranno sviluppati su questa commedia, vi prego di cliccare il bottone mi piace, I like. Non ve ne pentirete perché come ho già detto ci sono tantissimi progetti in lavorazione, quindi vi prego di tornare spesso per controllare le novità. Quindi se volete anche potete visitare il sito di Paul and the Hooker, il sito è paulandhooker.com dove troverete maggiori informazioni su questa commedia. Grazie per esservi fermati e abbiate pure voi stessi. Ciao!